buona giornata amici da massimo foghetti oggi è martedì 18 gennaio 2022 il sole questa mattina sorge alle 7.36 e tramonta le ore 17 avremo due minuti di luce in più rispetto alla giornata di ieri e progressivamente le ore di luce aumentano sempre sempre di più vediamo chi è il santo del giorno nella giornata di oggi e vediamo santa margherita d'ungheria la vedete qui con la testa incoronata perché perché era figlia del re bella iv nacque nel 1242 i genitori però attendevano un figlio maschio e quindi quando nacque una femmina dopo raggiunta l'età di tre anni la affidarono ad un convento ma margherita abbracciò la fede religiosa con trasporto operò per la pace familiare in occasione del contrasto sorto poi tra il padre ed il figlio per questioni di successione e non volle però sposarsi quando il padre ripensandoci dopo averla messa in convento voleva farla sposare morì santamente all'età di 28 anni ed è molto venerata in ungheria ma anche da tutti coloro che hanno da tutti coloro che hanno il nome di margherita veniamo alle previsioni del tempo vediamo che il bel tempo rimane sulla nostra regione vediamo la grafica tutto sole per le marche il tempo è stabile e cieli sereni aumento della nuvolosità soltanto in serata su tutti i settori a partire da sud temperature in lieve rialzo i venti spireranno da sud est sud est ed ora diamo un'occhiata subito ai giornali a partire oggi dal Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e la questione degli aumenti generalizzati che occupano tutti i settori della nostra vita si fanno sentire salgono alla ribalta anche dei giornali già mezzo milione in più per l'elettricità e dobbiamo ancora stimare l'effetto gas a parlare così è l'assessore alle finanze del comune di Fano Sara Cucchiarini non solo le famiglie ovviamente si trovano in difficoltà per fronteggiare tutti questi eventi tutti questi aumenti ma anche le istituzioni anche i comuni i comuni che devono pagare tantissimo per quanto riguarda il riscaldamento l'energia elettrica insomma anche loro hanno le loro bollette l'obiettivo è quello di non aumentare di conseguenza tasse e tariffe e aliquote fiscali tantomeno tagliare i servizi ma l'allarme conti è scattato anche al comune di Fano impegnato a rivedere le stime del bilancio di previsione che è stato approvato proprio alla vigilia di Natale lo scorso dicembre in seguito al generale aumento dei costi delle materie prime e dell'energia allora si aveva un sentore di quello che poteva capitare degli aumenti che potevano esserci però in realtà gli aumenti poi sono superiori ad ogni previsione se ASET non vince le gare il comune è in difficoltà è una dichiarazione questa fatta dalla nuova da nuova forza politica che è entrata in consiglio comunale azione più europa rappresentata dal capogruppo stefano marchegiani e dalla consigliere cora fattori hanno avanzato una interpellanza a cui si è aggiunto anche giampiero pedini e per cercare di fare riflettere il consiglio comunale sui rapporti tra ASET e marche molti servizi che ASET affronti le prossime gare sono gare importanti che si preannunciano da qui alle 2030 da sola resta una cosa molto molto difficile poi che superi queste queste impasse che continui ad esercitare a gestire i suoi servizi ecco perché azione più europa propone una riflessione in consiglio comunale in modo da fare una un'intesa magari con le altre aziende l'altra azienda perché poi ce n'è una sola che opera nel nostro territorio provinciale quindi non più un out out reddito di cittadinanza destinati ai progetti utili solo 59 per settori e pensate che a chi a fare domanda erano molti molti di più erano diverse migliaia nella ts i beneficiari sono 2315 l'assessore tinti una misura assistenziale insomma un progetto che non ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissi ovvero quello di dare l'autonomia a chi si trovava in difficoltà perseguendo un progetto di riscatto ma è rimasta soltanto è mera a misura assistenziale piano sociale un'altra occasione persa ci sono due critiche oggi che appaiono sul corriere adriatico una che viene evidenziata dalla consigliera tarsi di fratelli d'italia e quell'altra in questo articolo di spalla che viene espressa dal gruppo consigliare del movimento 5 stelle entrambi affrontano lo stesso argomento quello del piano sociale d'ambito ci sono critiche in questo caso per i ritardi che sono stati segnalati in merito all'approvazione di questo piano anche il movimento 5 stelle contesta il metodo di lavoro infatti vengono esclusi sodalizi con la Caritas e questo insomma viene criticato terra contaminata da asportare attenzione ai reperti archeologici si parla dell'area ex Agip dell'area scusate ex Agip ma è la stessa cosa infatti è stato pubblicato il progetto di bonifica appunto di questa area che dovrà essere realizzato da Leni che era il gestore dell'impianto di carburanti che esisteva su questa superficie è una zona di rilievo storico in quanto è appena fuori delle mura della città ma è vicina ad una direttiva quella che inizia da via Giordano Bruno che poteva essere una delle vie principali della centuriazione urbana quindi una di quelle vie costeggiate da tombe da necropoli che erano un po' l'abitudine delle città romane quindi attenzione agli scavi al furlo si parla ancora di questo masso pericolante che impone la chiusura della gola e quindi della strada e i commercianti che stanno subendo danni chiedono risarcimenti furlo ancora bloccato ultimatum appunto dei commercianti e ristoratori per l'inizio dei lavori fate presto perché ogni giorno che passa noi siamo sempre più in difficoltà hanno detto gli operatori a terre roveresche le mascherine sono state acquistate a un prezzo non calmierato a 2 euro e mezzo mentre i prezzi calmierati delle FFP2 sono a 0,75 centesimi e quindi contesta noi siamo terre roveresche questo schieramento politico di minoranza il provvedimento del comune che ha pagato di più quello che poteva pagare di meno tiriamo ancora la pagina sul Corriere Adriatico siamo nel Val Cesano siamo a Fabriano in realtà un giovane di Fabriano è venuto a rifornirsi a Fano di cocaina ed è stato condannato si tratta di un operaio di vent'anni per lui è stata combinata una sentenza di un anno e di sei mesi e vediamo anche la pagina di Senigallia scoppiano i focolai in due case di riposo sono 17 i positivi tra ospiti e operatori all'opera Pia Mastai Ferretti e ad Ostra due sono stati trasferiti alla RSA di Corinaldo che è una struttura Covid la situazione comunque è monitorata ed è sotto controllo ad Ostra ci sono tre ospiti con sintomi nulli o lievi lo spiega il dottore Alessandro Marini che è direttore del distretto sanitario di Senigallia e tre invece sono alla RSA di Corinaldo per quanto riguarda gli operatori ad inizio giornata ieri se ne contavano quattro ma nel pomeriggio per uno di loro il tampone è tornato negativo all'opera Pia risultano due ospiti trasferiti alla RSA di Corinaldo prosegue il dottor Marini e cinque operatori sono asintomatici quindi un focolaio importante intanto i controlli proseguono e chi si trova senza Green Pass viene multato in questo caso si tratta di un ristoratore sorpreso nel locale da un blitz dei carabinieri salgono quindi a sette le sanzioni nel weekend in merito alla non applicazione alla non osservanza delle norme anti-Covid i controlli sono stati effettuati i controlli di cui parla questo articolo sono stati effettuati domenica sera zero offerte per lo Shalimar Club un'asta infinita per l'ex discoteca e tutte le discoteche si trovano in difficoltà in questo momento per le norme anti-Covid per le norme che vietano gli assembramenti dai 6 milioni del 2013 questa era la base d'asta la richiesta è scesa a 795 mila euro stesso destino per l'Eto di Marzocca insomma non nessuno vuole una discoteca in questo periodo e poi qui abbiamo un articolo sempre sulla lanterna azzurra sempre per restare in tema di discoteche e si parla di un ottavo uomo dopo il 6 che sono stati arrestati e condannati in primo grado un complice che è deceduto si tratta della vittima di un incidente stradale che si è verificato nell'aprile del 2019 ed ora si parla dell'ottavo uomo si tratta di Riccardo Marchi bolognese di 23 anni per il quale la procura ha chiesto un processo il ruolo di Riccardo Marchi l'ultimo imputato della banda che scatenò l'inferno a Corinaldo viene appunto evidenziato in questo articolo e vediamo ora le notizie che vengono dalla Regione per quanto riguarda la situazione sanitaria un portafoglio da 182 milioni sono queste le risorse che provengono dal PRNN per quanto riguarda la sanità marchigiana si tratta appunto di risorse che potrebbero essere utilizzate per potenziare gli ospedali ebbene entro il 28 febbraio la Regione dovrà presentare al Ministero della Salute i progetti sui quali intende appunto investire i 102 milioni che pioveranno sulle marche per la sanità e ieri mattina è stato fatto un primo punto in giunta con l'assessore Filippo Saltamartini il quale ha illustrato i principali interventi vediamo un po' quello che si propone di fare Saltamartini si tratta della realizzazione di un ospedale di comunità a Iesi il restyling di quello di Cagli e in generale la partita degli ospedali di comunità per un investimento di 23,2 milioni di euro ed è cruciale anche nell'ottica di una sanità sempre più territoriale come richiesto proprio dal PNRR questo investimento sul territorio altre poi notizie su questo articolo un picco di ricoveri a febbraio è quanto si preannuncia per il nostro territorio regionale quasi 700 posti letto Covid per reggere la quarta ondata assessorato e aziende ospedaliere hanno elaborato il piano di riorganizzazione insomma 700 posti letto il che vuol dire quanto avremo a che fare ancora con la pandemia e veniamo ora sulla pagina di Pesaro dove si parla del discolato era con questo termine noto il fabbricato dove appunto venivano richiusi i ragazzi che non avevano ancora raggiunto la maggiore età si tratta dell'ex carcere minorile di cui qui vediamo una fotografia l'ex carcere avrà un nuovo futuro come polo di infanzia comune e provincia hanno ridefinito l'accordo del 2021 sul vecchio discolato progetto primavera per l'accompagnamento dal nido alla scuola materna e con i fondi da intercettare dal piano nazionale di ripresa e resilienza c'è anche la possibilità di recupero e nuova destinazione d'uso del complesso dell'ex carcere minorile che cosa si intende fare? al piano terra troverebbe posto il polo unico comunale per l'infanzia 0-6 anni mentre il piano superiore potrebbe essere destinato alle eventuali esigenze degli istituti scolastici superiori che gravitano in centro e sempre alla ricerca di aule di nuovi spazi anche per i laboratori quindi una struttura che costituisce un patrimonio da utilizzare nel migliore dei modi e sempre restante un po' in ambito scolastico ma in questo caso a livello superiore vediamo quest'articolo Pesaro Studi accoglierà ancora corsi universitari si tratta di una soluzione temporanea per la Politecnica delle Marche l'Università di Ancona che ha bisogno di spazi insomma l'Università amplia la propria offerta universitaria a Pesaro e acquisisce in via temporanea gli spazi dell'ex Pesaro Studi la Politecnica attiverà infatti dal nuovo anno accademico 2022-2023 quindi il prossimo due nuovi corsi di laurea triennale il corso di Ingegneria nella Ecosostenibilità ed il corso della Energetica insomma due corsi importanti per coloro che vorranno appunto avere destinare il loro futuro in questi settori e parliamo di fitness di palestre di forma fisica ebbene anche questo settore è in difficoltà lo evidenzia questo articolo il mondo del fitness al bivio meno clienti e le abitudini sono cambiate e non è solo l'introduzione del pass rinforzato a diminuire le presenze nelle palestre per i personal trainer la flessione nelle palestre è iniziata dopo il primo lockdown e quindi ora questo nuovo provvedimento non fa altro che peggiorare la situazione da Stato Regione Comune sono arrivati ristori e bonus per le attività ma la crisi rimane e lo evidenziano qui questi proprietari gestori di palestre insomma che evidenziano il loro giudizio ripresa economica così noi rischiamo di perdere il treno in questo caso invece sono i rappresentanti di categoria che evidenziano i rincari e quindi le difficoltà di tutti gli operatori economici i rincari generalizzati dei prezzi e le conseguenze che comportano sono infatti una minaccia tutta italiana secondo le associazioni di categoria e qui vediamo Marco Arzeni della Confcommercio pane e caffè listini fermi da anni poi si sono inseriti gli aumenti di luce e gas spiega mentre Alessandro Licurgo direttore della Confesercenti la gente ci pensa due volte prima di spendere è il caso del settore abbigliamento ancora Moreno Bordoni il segretario della CNA siamo in una fase strana avremmo dovuto correre invece non sta accadendo e quindi si langue il direttore Lofreda non rientra da Riad il pronto soccorso è passato a tempesta un cambio di vertice dunque per il pronto soccorso di Marche Nord Stefano Lofreda era in aspettativa lo è stato per due anni e ovviamente si è trasferito in Arabia Saudita e non è rientrato in questo caso dunque è decaduto in questo caso è decaduto anche Umberto Gnudi che era il responsabile sostituto e la direzione ha affidato tutto il pronto soccorso a Michele Tempesta Michele Tempesta appunto che è uno dei primari direttore titolare appunto ora diventa di pronto soccorso ma è uno dei primari che gestiva già il reparto di rianimazione un primario molto noto e stimato bus un percorso sempre più ostacoli parliamo di trasporto pubblico le assenze pesano sul numero di corse ed è il direttore Benedetti che dice come Adria bus sta registrando anche un calo di passeggeri dal 10 gennaio scorso ci sono rischi per frequentare i bus nonostante tutte le cauteli che vengono prese ma sono gli stessi rischi che si che si insomma affrontano quando si cammina per strada oppure si partecipa ad una iniziativa però insomma i genitori preferiscono sempre più portare i loro figli a scuola con le loro auto piuttosto che servissi del trasporto pubblico e in questo articolo il direttore Benedetti esamina la situazione niente mediterraneo beach games un costo troppo salato per il comune pensare che pesano aveva questa bella iniziativa che l'avrebbe elevata l'avrebbe elevata a livello nazionale invece purtroppo per il costo per i problemi che sono sorti il sindaco Matteo Ricci è stato costretto ad annullare questa manifestazione ed ora passiamo al resto del Carlino passando dalle notizie di Fano la pagina fanese dove si parla di ferrovie e le dichiarazioni del sindaco di Pesalo Matteo Ricci sull'arretramento della ferrovia ha riportato alla ribalta questo argomento che è molto scottante e grazie alle prospettive che si preannunciano qualcosa si sta muovendo Binari dietro l'A14 un sogno stazione a Carrara così Fano sogna l'arretramento l'argomento è stato affrontato nella riunione di fine anno con i capigruppo ma non c'è ora un progetto ovviamente tutto il comune di Fano è favorevole all'arretramento della ferrovia della ferrovia con una stazione che sarebbe posta a Carrara con la Fano Urbino trasformata in metropolitana di superficie per il trasporto di passeggeri da e verso la nuova stazione quindi abbiamo già una linea ferroviaria che da Fano dalla vecchia stazione ferroviaria porta a Carrara utilizzando i binari della Fano Urbino e qui si potrebbe realizzare completamente una nuova stazione punto di partenza per l'arretramento della ferrovia che eliminerebbe il passaggio del treno sulla costa lasciando liberi grandi spazi e grandi prospettive anche per quanto riguarda la viabilità bolletta della luce 5.000 euro per 26 giorni è un barista che si lamenta e mostra la bolletta che gli è arrivata dall'Enel la denuncia è di Leonardo Vitali contitolare del Pino Bar di Fano la situazione dice non è più sostenibile nemmeno aumentando i prezzi ebbene in media prima si pagava pagava lui 3.400 euro pagati da gennaio a settembre dell'anno scorso ora invece è arrivata una bolletta da 5.091 euro insomma un aumento considerevole di più di 2.000 euro pensate come avrebbe dovuto come dovrà rincarare appunto i suoi prodotti al banco una intera pagina dedicata ad un personaggio come fa di solito Silvano Clappis che evidenzia i personaggi più tipici caratteristici più importanti della città di Fano in questo caso si parla di una cantante Agata Bienkowska cantante lirica e docente al conservatorio Rossini di Pesaro ha scelto la città della fortuna per mettere radici e appunto in questa intervista spiega perché era originaria era originaria appunto della vediamo un attimo di un paese dell'est adesso non trovo qual è il paese giusto ah sì di nazionalità polacca ecco di nazionalità polacca ovviamente per cantare è venuta in Italia dove c'è appunto il centro della musica lirica e poi si è innamorata di Fano e qui ha piantato le tende ma un appartamento un bel appartamento a Mondavio da Fabriano per comprare droga in manette ventenne arrestato appunto a Mondavio dai carabinieri aveva tre etti di asci e cinque grammi di cocaina nel giubbotto con lui sono stati denunciati anche due sue amici il giovane si è giustificato dicendo che era per uso personale ma è stato processato per direttissima quaderno e rullante tutta un'altra scuola a San Lorenzo in campo alla scuola media Dante Alighieri di questa città è stata inaugurata l'aula per la musica d'insieme per un importo di 30 mila euro il sindaco Dell'Onti dice ora i nostri ragazzi avranno spazi idonei per esercitarsi a Urbino arriva la peste suina non arriva ad Urbino arriva in tutto il territorio ma la notizia viene pubblicata dalla pagina di Urbino arriva la peste suina allarme tra gli allevatori ci mancava anche questa il grido di allerta degli addetti ai lavori il contagio è portato dai selvatici probabilmente dai cinghiali e non sarà facile evitare le infezioni dunque anche nella nostra regione si teme l'arrivo della peste suina africana per la quale la regione ha già creato una unità di crisi dedicata alcuni stati esteri hanno bloccato l'export dall'Italia mentre Liguria e Piemonte e le regioni dove sono comparsi i primi focolai hanno vietato addirittura la raccolta dei funghi e dei tartufi insomma c'è un problema importante per cui occorre mettere subito le mani avanti per cercare di arrestare il propagarsi dell'epidemia edifici e sicurezza un piano di investimenti ad Urbino prenderà corpo entro il 2026 grazie ai fondi derivanti dei bandi ministeriali è una notizia che circola nei giornali già dalla giornata di ieri il sindaco Gambini quasi tutti i progetti presentati sono stati finanziati 2 milioni e mezzo di euro per la sicurezza del territorio ed edifici 20 milioni per la rigenerazione urbana è un progetto da 15 milioni per il programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare insomma il PNRR è una risorsa eccezionale non capita ovviamente tutti i giorni di avere un importo così importante a disposizione e quindi con questi soldi si potranno risolvere molti molti problemi abbiamo anche qui il direttore provinciale della Confcommercio Amerigo Varotti che interviene sul turismo in archivi un'annata di tutto rispetto quella del 2021 è andata meglio anche degli anni passati in realtà però il 2022 non si sa che cosa proponga e quindi anche qui ci sono diverse incognite mentre va bene sul Catria e sul Nerone per quanto riguarda gli impianti sciistici assalto a suon di lamine migliaia di sciatori sulle cime più ammirate della provincia siamo in conclusione vediamo subito una notizia di sport si parla in questa pausa di campionato sempre più frequentemente di riqualificare lo stadio Benelli a Pesaro all'ultimo stadio raccolta di firme per il Benelli e per il Benelli in questo caso si mobilitano i tifosi una petizione anche prima della partita con il Teramo dopo le 560 adesioni online no rattoppi chiedono appunto i tifosi ma progetti di riqualificazione e per quanto riguarda invece il Fano Calcio vediamo che il Covid impera e la squadra si trova in difficoltà oggi ci sarà l'esito dei tamponi ieri sera sono stati effettuati gli accertamenti su 16 positivi di squadra e il gruppo catalano aspetta i guariti anche due under in prova al posto di Gualtier abbiamo anche una notizia che riguarda la VL dopo la grande vittoria di Milano in questo caso è Walter il Magnifico che interviene e dice VL che orgoglio vincere così e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 mentre per le notizie del giorno alle ore 20.30 con occhio alla notizia su Fano TV questo è tutto a risentirci con alcune Grazie a tutti.